Avanti il prossimo! 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 Come vi chiamate? Stefan e Daniela. Siamo due rappresentanti della compagnia Le Farfadè. Pensavo che vendevate vasca da bagno. Rappresentanti di vasca da bagno. E questo è il modo in cui noi facciamo le nostre convention. Di dove siete? Io sono per metà di Torino, mia mamma è di Torino e mio papà... E mio papà è mezzo svizzero, mezzo francese e se no Daniela. Sono di Genova. Nina, di la tua. Altamente sexy, due fisici da stare male tutti e due. Vi voglio ringraziare perché questo sì che è spettacolo! Frank! Intanto mi è piaciuto da morire, fantastici quando poi le gambe a orologio da dentro la vasca spuntavano. Quello era pure un'illusione ottica incredibile. Quella è la mia parte preferita. La curiosità è diventata... No, voi vi fate il bagno sempre così, questo voglio sapere. Ci facciamo il bagno tutti i giorni. Bagni caldi, rilassare i muscoli, perfetto. E poi diventi come lui Claudio. Io faccio i bagni freddi, forse è quello che mi ha fregato. Anch'io, anch'io. Diciamo che davvero io quelle cose lì riesco a farle fare soltanto a Barbie e Ken, di aprirsi così. Ma voi siete fidanzati? Magari. È una dichiarazione. E poi finisce che fate l'amore nella posizione del missionario. Prima fate... Luciana! Bravissimi, guarda, anch'io... Sono senza parole, come diceva anche Nina, molto sensuale ma molto atletico. Di tutto, di tutto c'era. Votazione, Nina. Sì! Frank! Vi prego, qualche volta facciamoci un bagno assieme per me, sì. Luciana! Anche per me, sì! Quattro sì! Alla prossima! Grazie, grazie. Ciao! Ciao! ale !